C'erano un... no c'erano, ci sono, no però ci sono al presente, no, ci sono stati, ci sono stati, ci sono stati che cazzo, no, aspetta com'era il verbo, c'erano però mica sono morti, quindi ci sono, no al presente dai ci sono, allora ok, ci sono, quindi un italiano, un francese, no francese, oh sì, no, italiano sicuro, adesso se è marchigiano, napoletano, romano, lombardo, non lo so, italiano sempre, c'è sempre in queste cose, comunque ne sono tre, Allora, un italiano, no, ci sono, un italiano, un... non era francese, era... aspetta... inglese, allora ci sono un italiano, un inglese e... come è il terzo... aspetta eh, no, non era europeo, era... ah, cinese! Allora, ci sono un italiano, un italiano, un inglese e un cinese, o... ehm... me lo diamo, mi sono un cinese... che fanno? porra... stop!